salve a tutti e benvenuti all'angolo dell'arcade ve lo ricordate l'angolo dell'arcade no allora siamo con the binding of isaac si lo conoscete tutti penso di no però vabbè è un gioco carino non notate la win streak di meno 10 ho perso 10 volte sì non importa oggi volevo fare con voi una partita una partita a the binding of isaac perché sì è il modo migliore per iniziare the binding of isaac e direi con sansone allora per chi non sa di cosa si tratti di questo gioco questo gioco basso un po' il volume se no impazzisco questo gioco tratta è un gioco arcade cioè praticamente non avete mai visto sabaku lo fa anche lui ho voluto provarlo tanto sono scasso come la merda questo episodio durerà pochissimo ma molto poco come spiegarvi il gameplay siamo questo bambino isaac che è stato spaventato dalla madre che ha tentato di ucciderlo perché dio le ha detto di fare così adesso sansone io non ho un'idea di quante quanta vita ha ah scavo di tutti di tutti oh di tutti i nemici che potevo incontrare in questa stanza i ragni più fastidiosi ok vabbè non importa a proposito di stanze fastidiose non sono capace non sono capace ok usciamo da questa stanza il nostro obiettivo quindi è completare queste varie stanze uccidendo i nemici arrivare dal boss e niente essenzialmente così tutto così essendo un gioco arcade una volta una volta morti dovremo ricominciare il gioco quindi l'obiettivo è essenzialmente non morire pillola ecco proprio una pillola che non volevo allora è un gioco molto molto tattico e si basa anche parecchio sul culo ah dai non sputare ragni devi morire morire velocemente morire velocemente veloce velocemente guarda quanti ragni sputa i ragni sono la cosa che che odio di più in sto gioco anzi c'è un'altra creatura che forse vedremo più avanti che odio ancora di più dei ragni guardalo guardalo il ragno che si muove a cazzo completamente a cazzo ecco sapevo che mi avrebbe colpito lo sapevo vabbè non importa siamo solo al primo piano allora siamo al basement 2 cerchiamo la stanza questo gioco richiede molto molto silenzio ecco dicevo le creature che odio di più del gioco sono queste queste sono le creature che odio di più del gioco uno dirà sono scassissime perché ti lamenti tali creature non ne avete idea non ne avete assolutamente idea ecco vedete quella roccia lì un po' più chiara delle altre un po' più azzurrina ecco si chiama tinted rock almeno così lo so io dentro queste rocce potremmo trovare cuori oggetti cose varie però in questo caso affanculo affanculo mi sono distratto per parlare in questo caso io non ho bombe non posso aprire quella roccia speriamo che qua ah gli devo delle bombe e me le hanno date perfetto non è uno degli oggetti migliori però lo usiamo ecco qua abbiamo mezzo cuore se non ci facciamo colpire dovremmo ottenere il patto con satana no non sono satanista è proprio così il gioco oh little horn quanto danno quanto danno si è fatto male piccolo eh si è fatto male sei già morto è andata di lusso è andata questo cos'è non so cosa faccia va bene va bene rompiamo i fuochi rossi che c'è il rischio che ci sparino ci tolgano un cuore vabbè apriamo ah perfetto è un'altra e va bene però che fatto di merda uh pillole grazie eh vaffanculo tears down probabilmente questo gameplay non se lo starà vedendo nessuno però lo faccio perché si vaffanculo dai dai ragni di merda ragni di merda guardali guardali lezzi non insultatemi se c'è qualche esperto non insultatemi io sono scarso appena iniziato a giocare all'inizio della partita avete visto avevo una una win streak di meno undici ho perso undici volte quindi non giudicatemi non giudicatemi maledette creature tu esplodi tu esplodi giusto eh eh proprio proprio dai esplodi 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 quanto cazzo ci vuole esplodere eh vabbè dovevi esplodere molto prima però però ecco no queste creature sono incredibilmente resistenti ok ok un sacchetto va bene la batteria la teniamo là da quante creature che stanza di merda che stanza di merda ah eh vaffamene lo sapevo che mi avrebbero colpito non faccio eh vai dai cazzo guarda che c'è pure il champions che toglie di più eh lezzo lezzo proprio arriva wizard no no questo l'odio 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 oh no non li colpirò mai con a you a wizard ma culo io me ne vado eh vabbè mi sono colpito da solo ah dea il nostro danno è altissimo però vaffanculo ok abbiamo ottenuto una vita una vita va bene va bene sta andando malissimo eh potrei morire da un momento all'altro cerchiamo di trovare la boss fight a te non so se darti soldi no ti faccio esplodere grazie grazie mille andiamo avanti cerchiamo il negozio ah 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 non colpitemi dai faccio parecchio danno parecchio danno almeno per questo piano dobbiamo almeno sopravvivere per questo piano con 10 di danno 11 di danno ok chiavi ottimo bomba che culo dai e no dai 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 perfetto allora ho un cuore nero ma non posso prendere che cazzo oh no le spine le spine no dammi il cuore oh cazzo ecco eh perfetto una stanza piena di ragni una stanza piena di ragni va bene va bene qua ci moriamo qua ci moriamo durerà quanto questo episodio 12 minuti 10 minuti in realtà non è durato un cazzo sto già per morire questo per farvi capire quanto io sia scarso allora la mia unica speranza è trovare una stanza segreta che potrebbe essere qui o qui una pillola dai tanto peggio di così peccato che non mi ha curato cazzo dov'è la stanza segreta non può essere qua non ho idea di dove sia vabbè che dio ce la mandi buona chi sei tu non ti ho mai affrontato no non so affrontarti non so affrontarti tu sei quello che diventa uno scheletro vero eh sì eh sì dai dai oh merda si moltiplicano pure le cose qua cos'è muori oh oh pure il patto con gli angeli sì datemi della vita eh questo credo che mi questo cos'è non so questo è olimental questo è il wapper ok ho controllato dovrebbe essere olimental quindi io direi di prendere questo oh sì oh sì oh sì eh già eh già adesso abbiamo una difesa in più per ogni stanza per ogni stanza possiamo andare al prossimo piano abbiamo preso tutto il negozio sì 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 andiamo 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 scusate la mia paranoia ma con mezzo cuore non è che sia molto felice cazzo per solimental o per solimental adesso sì che sono in paranoia mi sembra di giocare con lost oddio oddio oh porca puttana no 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 morici 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 cazzo porca puttana morici cacchina di merda Mori Oddio Oddio Mori Mori Questo non so sinceramente Che cazzo Ah ne posso tenere due Vabbè Questo cos'è? Spectral tears Va bene Non è che c'è una pillolina qua? Un funghetto? Proprio niente Oh ma che stanze del cazzo! Ok però non ho trovato la stanza Sì ho trovato tutto Ok E neanche un cuore Neanche un cuore Tu ci muori Tu ci muori Bene ho già finito Le bombe Un cuore Oh no per solimento Ci muoio Ci muoio Ci muoio Ci muoio Oh se ci muoio Oh se ci muoio Oh se ci muoio anche queste cose, il bello della diretta come direbbe Sabacuo sto imitando un po' troppo Sabacuo ah 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 cazzo, orca miseria come cazzo facevo qua dai una stanza proprio infame questa ma proprio infame dai cos'è? mosche sono i facci delle mosche ah ah sono potenti per carità eh però averne quattro non è che mi cambi la vita uh chiavi, bombe sto pieno di oggi ah ah dove mi ha riportato all'inizio del gioco però spariamo molto veloce guarda ok salve salve salvino salve salvino andate via andate via andate via andate via perfetto non è che tu mi dai un cuore nero? no come una carta però strength questa te la tengo oh 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 eh vada via vada via vada via il culo e dai ma guarda è una fresa per il culo è una presa per il culo uh cazzo mi sono bloccato mi ero bloccato tra le rocce tra le rocce e io mi ero bloccato Eh, vabbè Eh, vabbè Cioè, era destino, era destino Guarda che non si capisce Una sega Fanculo, va Più, Berti, sì, diventiamo più brutti Allora, dai Qualsiasi cosa Ma, dai, di solito Voi mi date un cuore nero, vero? Google Non so cosa faccia, quindi lo prendo Shrinkshot Ah, queste sono le lacrime Che rimpiccioliscono, mi pare Mi pare Dovrei rimpicciolire i nemici Esplodi là in mezzo, che almeno Non spreco una bomba Perfetto Vabbè, un cuore Mezzo cuore, va bene Dov'è il boss? E muorici, mini zombie Orda, che Fastidio Allora, abbiamo preso tutto Andiamo The game Come ne sto qua Ah, maledetti Infami No, dai Non ti sposti Meno male che si è rispostata Cazzo Oh no, non lo sapevo Non lo sapevo Sono ancora poco esperto di questo gioco Non sapevo che facesse il brimstone così Allora, HBO Grazie Grazie Ah, sta andando malissimo Sta andando malissimo Ma quante bombe Secondo me ne vale la pena Grazie Oh yes Oh yes Qua c'è una stanza segreta, vero? Oh sì Ogni tanto ci azzecco pure io Forza Vieni qua vicino Vieni qua Perfetto Ottimo 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 Andiamo Andiamo Proseguiamo Per la nostra strada Chi c'è? Kid Ah, sì Vieni, vieni, vieni Muori, 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 muori Quanta vita avete? Dovete essere già morti Oh yes Oh porca miseria Mi ha beccato Fortuna che ho alimento Fortuna Quando giocherò con l'host Non voglio sapere Quante lacrime verserò Dato Dato la mia scarsa Che cazzo Oddio però Eh vabbè Tanto non è che Non è che ho molta scelta La prendo Un cuore nero Grazie Grazie Oh cazzo Ma è ancora vivo Non me ne sono accorto Oh porca puttana Ma dai Perdere un cuore così Però Perdere un cuore così Allora Il boss si trova di qua Ok Quanto era grande Sto piano 29 minuti Non sono neanche arrivato A mamma Una Tinta di rock Vediamo Dovrebbe esserci Una stanza segreta Da qualche parte Però Non ne ho idea Pronti Ok Forza Facci vedere Sbagliato Porca miseria No Per solimento La mappa Se l'ha messa in mezzo Porca miseria Ma sono sempre L'ultimo a sapere le cose Perché Perché Rimori Mori No dai Porca miseria Mi ha colpito Eh scusate Esperti Ma Io sono poco esperto So che voi Lo fate occhi chiusi La mamma Ma io Non l'ho ancora imparata In due giorni Che ci gioco Quindi non è che Siamo molto esperto A parte aver visto Sabaku Ma Non è Non è la stessa cosa Di giocarci Ok HP up Lo prendo dopo Allora Quella è la puttana Di Babilonia Vero Non mi serva niente Questo non so cosa sia Lo prendo Seven Seals Ah C'ho un Cavaliere della morte Perfetto HP up Siamo pronti Andiamo Siamo a 35 minuti 31 nel gioco Allora Dove andiamo Andiamo di qua Tanto non c'ho nessun Nessun indizio Della mappa Cos'è Rainbow Tears Vero No No Assolutamente No Non ho intenzione Di giocare A questo gioco Ah Merda Qua Adesso Subiremo Un danno Ogni volta Che verremo colpiti Subiremo Un cuore di danno Il cavaliere Cambia ogni volta Uh figo Dai che ci stiamo dirigendo Nella direzione giusta Dai È in culo Ai 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 Dai Ok Non era la direzione giusta Oh No 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 Stanza di merda Non è una delle peggiori Per carità Però guarda Che schifo Non è un po' esagerato Bombe Che non posso prendere Era un vicolo cieco pure Era pure un vicolo No Sì Era un vicolo cieco Eh Mi sto perdendo Mi sto leggermente perdendo Dove è andato? Ok Eh Non so più dove devo andare Potrebbe valerne la pena Dai Eh Quanto ne valsa la pena Porca miseria Ho già perso The sun Questo me lo tengo Ecco Ho trovato una carta migliore Di Dell'altra The sun È molto meglio Allora Basta un po' Per due forzioni di merda Non mi sembra un po' esagerato Ok Va bene Eh Va bene Mi tengo The sun Andiamo Ok Boss Oh no Vabbè che Vabbè che Contro di me Perirà Perché ho le lacrime Perforanti Quindi Morirai Malamente Dai esci No cazzo Questo boss Viene ferito solo Sulla punta Della coda No adesso è rallentato Non riesco più a colpirlo Dai tira fuori la coda Dai Sinto il damage up Più range up Perfetto Siamo messi bene Siamo messi bene Dai Ultimo piano Ultimo piano Ce la possiamo fare Ce la possiamo fare Ok Almeno stavolta Vedo la mappa Oh no Ma proprio un boss Dove lo trovare Qua dentro Dov'è? Ma che stanza di merda Per trovare sto boss Ecco Muorici Almeno spero che sia La direzione giusta Su Cos'è quello? Cos'è? Non dovrebbe Oh porca puttana Non dovrebbe esserci Il negozio No? Ah È una stanza Ok Ok Però datemi dei cuori Non così Intendevo Non così Ecco Adesso c'ho anche un cuore In meno Grazie 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 davvero Veramente utile È stata sta stanza Appanculo Ok Dai che se Se non subiamo danno Posso forse ancora Sperare di ottenere Fatto con satana Questo cosa mi dà? Flu Crazy Crazy Continuava a girare a vuoto E continuerà ancora a girare a vuoto Con elemental Mi faccio male se entro là dentro Teoricamente no E infatti Ok Ah Ci andrei volentieri Ma devo battere il cuore Quindi mi spiace Lo so che Sarei andato Sarei andato un piano più sotto di questo Ma io devo battere il cuore È il mio obiettivo Forse ho fatto una cazzata Vero? Ho fatto una cazzata Ah Merda No Non posso farmi colpire Se mi faccio colpire Perdo il patto con satana Morite A meno che adesso Non l'abbia già sbloccato E quindi È comunque sicuro Non lo so Non lo so Qua c'è una stanza della sfida Che non si è aperta Oh no Morite tutti Quello perché c'ha la corona Cosa fa la corona? Oh boss Uddio No No Cosa mi ha colpito? Ho detto occhio Mori Ottimo cavaliere Vai così Ti sto adorando Ti sto adorando Oggetto Oggetto stupendo Oggetto stupendo Miglior oggetto del gioco Cazzo Cazzo Troppe lacrime Troppe lacrime Ah Ho perso Il mento Ok abbiamo sbloccato Sheol Va bene Ci andiamo Andiamo a battere satana Pronti? Morirò Io ho paura che la registrazione Si interrompa Da un momento all'altro Perché sta durante un casino Un casino Quanto sono veloci Moriteci tutti Io non ho tanta vita Non ho tanta vita Non posso permettermi Di farmi colpire Olimentol Mi sta salvando il culo In una maniera Impressionante Quasi vergognoso Sto vincendo solo Grazie a olimentol Faffanculo Vedete? Vedete? Vai cavaliere Vai cavaliere Oh grazie Anche il cuore Perfetto Allora C'ho ancora The sun Nel caso le cose Vadano male C'ho ancora The sun Porca miseria Sbagliato Morici Mostro Morici Oh Oh Grazie Eh sì Quanti Quanti ragni Cosa Oh porca Putta Ti prego Dammi dei cuori Vaffanculo 99 bombe 99 bombe Saltavano sul letto Una Ho sbagliato Ho usato The sun Ho usato The sun Ho buttato All'aria L'unica speranza Di sopravvivenza Che avevo Contro Contro Satana Vabbè Vabbè No Per pochissime Ho già perso Olimento Ho già perso Olimento Eh qua ci perdo Ci perdo Eh ci perdo Eh sì Ci muoio Ci muoio Non c'ho speranze Porca miseria C'ho due cuori Posso essere colpito Ancora una volta E ho buttato The sun Così Sono un cretino Ho sbagliato Ho sbagliato Porca miseria Sì Yes Ho vinto Bene ragazzi Ho vinto Grazie a tutti Per aver seguito Questo episodio Se l'avete seguito Non so come lo taglierò Ma lo taglierò Anche perché 54 minuti di registrazione Sono parecchie Non ve li vedreste mai Non sono sabato io Eh va bene Grazie a tutti E ci vediamo Al prossimo video Che non so quale sarà Magari questa serie Sostituirà l'angolo Della universe Va bene Ciao a tutti